ciao a tutti e benvenuti su tech gaming in questo video vi spiegherò come completare la sfida in fortnite danza da fitto arcobaleno all'autobus della spiaggia e al lago delle canoe la prima tappa è questa ossia a fitto arcobaleno che si trova sulla spiaggia in prossimità di siepi da grifoglio dove ci sono queste case non dovete far altro che regarvi qui e ballare vediamo la seconda tappa rieccomi il secondo luogo è l'autobus della spiaggia e si trova sulla spiaggia di foschi fumaioli quindi dove trovate appunto sulla mappa questo bus vi regate qui e ballate come sempre andiamo al terzo luogo eccoci all'ultimo punto ossia il lago delle canoe che si trova su questo piccolo isolotto vicino moli molesti e corso commercio regatevi qui e ballate in questo modo completerete la sfida se avete ovviamente ballato nei tre punti indicati